Nell'opera intitolata Analitici primi Aristotele espone la sua dottrina del sillogismo. Che cos'è un sillogismo? È un ragionamento del tipo ogni animale è capace di sensazione, il gatto è un animale, dunque il gatto è capace di sensazione. Questo è un sillogismo. Come potete notare questo ragionamento si compone di tre proposizioni semplici che Aristotele chiama premessa maggiore, cioè ogni animale è capace di sensazione, premessa minore, il gatto è un animale e conclusione, il gatto è capace di sensazione. Quindi il sillogismo è un ragionamento nel quale alle due premesse, la maggiore e la minore, segue necessariamente una conclusione, che è la conseguenza logica di quelle due premesse. Ma cerchiamo di capire quali sono i termini, le singole parole che costituiscono il sillogismo e che caratteristica le distingue l'una dall'altra. Nel nostro caso noi abbiamo tre termini e cioè l'essere capaci di sensazione, consideriamolo come un unico concetto, il gatto e l'animale. Quindi abbiamo questi tre concetti, queste tre espressioni linguistiche, l'essere capace di sensazione, gatto e animale. Ora, prima di procedere oltre nella nostra spiegazione del sillogismo, conviene spiegare che cosa Aristotele intenda quando parla di estensione di un termine o di un concetto. Per esempio, se noi consideriamo l'estensione dell'espressione esser capace di sensazione, noi dobbiamo immaginare questo concetto come se fosse un insieme, un insieme nel quale possiamo includere tutti gli esseri capaci di sensazione. Quindi quando diciamo esser capace di sensazione, noi immagineremo questo ambito, questo insieme, entro il quale collocheremo mentalmente tutti gli esseri capaci di sensazione che possiamo immaginare. Quindi includeremo gli animali, includeremo gli uomini e eventualmente potremmo anche includere gli dèi se consideriamo gli dèi come esseri capaci di sensazione. Se consideriamo, se andiamo a considerare l'altro termine, cioè il termine animale, anche in questo caso noi possiamo immaginare un insieme che è incluso nell'insieme degli esseri capaci di sensazione e che quindi essendo incluso in questo insieme ha un'estensione minore. Infine, se consideriamo il termine gatto, possiamo anche in questo caso immaginarci un insieme che è incluso nell'insieme degli animali, in quanto il gatto è un animale e evidentemente questo insieme che include tutti i gatti, il quale a sua volta è incluso nell'insieme degli animali, di tutti gli animali, ha un'estensione ancora minore. rispetto all'insieme in cui è incluso. Quindi quando Aristotele parla di estensione di un termine o di un concetto, potremmo dire noi, si riferisce proprio alla capacità che questo termine ha di includere un maggiore o un minore numero di elementi. Allora, se noi visivamente appunto volessimo rappresentarci l'estensione di questi tre termini, potremmo disegnare un cerchio, poi un cerchio più piccolo all'interno di questo cerchio più grande, ed infine un cerchio ancora più piccolo che sia all'interno del cerchio mediano. Il primo cerchio, quello più esteso, include tutti gli esseri capaci di sensazione, quindi gli dei, gli uomini e gli animali. Il secondo cerchio, quello degli animali, include tutti gli animali, quindi il cane, il gatto, la volpe, l'elefante e così via, mentre il terzo cerchio, più piccolo ancora, include degli animali soltanto quelli che corrispondono ai gatti, quindi include soltanto i gatti. Capite bene che quanto maggiore è l'estensione di un termine, tanto minore sarà la caratterizzazione dei singoli elementi che appartengono a questo insieme. Se io mi limito a dire essere capace di sensazione, evidentemente non so specificare se si tratti di un essere umano, di un dio oppure di un animale, di un gatto, di un cane. Quindi quanto maggiore è l'estensione di un termine, tanto minore sarà la determinazione, come dire, la precisione degli elementi che ne fanno parte. Cioè io non potrò dire, non potrò identificare questi elementi come un gatto, come un animale, come un uomo e così via, ma genericamente come tutto ciò che è dotato di sensazione. E allo stesso modo, poiché l'estensione del termine animale è minore di quella dell'espressione esseri capaci di sensazione. Quando io dico animale, escludo dall'ambito di questa parola, di questo concetto, tutti quegli elementi che animali non sono. Quindi escluderò l'uomo ed escluderò la divinità. Quindi vedete che diminuisce l'estensione del termine, ma questo ambito, gli elementi di questo ambito vengono identificati in maniera più precisa, in maniera più determinata, tale che mi consenta di escludere elementi che appunto non hanno le caratteristiche proprie degli elementi contenuti in questo sottoinsieme del primo insieme. Restringendo ancora di più questo insieme, quindi diminuendone per così dire ancora di più l'estensione. E ritagliando all'interno dell'insieme degli animali il sottoinsieme dei gatti, ecco che io ho ridotto ulteriormente l'estensione di questo ambito, ma ho guadagnato per così dire in determinatezza. Cioè sono in grado di distinguere all'interno dell'insieme degli animali degli animali determinati, cioè una specie determinata che è quella dei gatti. Bene, a questo punto siamo in grado di comprendere perché Aristotele chiami la prima premessa del silogismo premessa maggiore e perché chiami la seconda premessa del silogismo premessa minore. Lo fa perché la premessa maggiore contiene il termine che ha una estensione maggiore. Infatti nella premessa maggiore ogni animale è capace di sensazione, noi abbiamo il termine, l'espressione, esser capace di sensazione che ha l'estensione maggiore rispetto agli altri due termini. nella seconda premessa, la seconda premessa è detta premessa minore perché in essa compare il termine che ha minore estensione, cioè il termine è gatto. Il gatto è un animale, questa è la premessa minore. In essa, ripeto, compare il termine gatto che dei tre termini presi in esame, in esame è quello che ha l'estensione minore. Nella conclusione questi due termini che Aristotele si chiama termini estremi, cioè il termine che ha estensione maggiore e il termine che ha estensione minore, vengono collegati insieme, cioè il gatto è capace di sensazione. E com'è possibile concludere in questo modo? Com'è possibile mettere insieme questi due termini che nelle due premesse sembravano essere staccati tra di loro? È possibile grazie all'opera, potremmo dire, del termine medio, che è il termine animale. Capiamo perché Aristotele lo chiama termine medio, in base a quello che abbiamo detto prima, e cioè perché questo termine ha un'estensione mediana rispetto ai due termini di maggiore e di minore estensione. se torniamo all'esempio del cerchio, dei tre cerchi concentrici, il termine animale corrisponde all'insieme del secondo cerchio, cioè quello che è incluso nel insieme degli esseri capaci di sensazione e che a sua volta include l'insieme dei gatti. Quindi ecco per quale ragione Aristotele chiama questo termine medio. Qual è la funzione del termine medio nel sillogismo? È una funzione decisiva perché grazie al termine medio vengono messi in relazione i due termini estremi e quindi è possibile, in questo modo, dalle premesse concludere necessariamente e quindi, come dire, terminare il ragionamento con una deduzione logica. Deduzione logica che parte appunto dalle premesse che abbiamo detto. Dunque, tutto il ragionamento lo ripetiamo. Ogni animale è capace di sensazione, premessa maggiore, il gatto è un animale, il gatto è capace di sensazione. Conclusione. Conclusione resa possibile nel fatto che sia nella premessa maggiore sia nella premessa minore compare il termine medio in funzione di collante, potremmo dire, in funzione di legame, di elemento che rende possibile la connessione dei due termini estremi. Questo tipo di sillogismo viene chiamato da Aristotele sillogismo di prima figura. Aristotele distingue tre figure del sillogismo a seconda della posizione che il termine medio occupa nelle due premesse. Questo sillogismo che abbiamo preso in esame, cioè il sillogismo di prima figura, è tale per cui il termine medio occupa la posizione del soggetto nella premessa maggiore ed occupa la posizione del predicato nella premessa minore. Quindi tutti i sillogismi che appartengono a questa figura, questo schema, schema in greco equivale a figura, hanno appunto questa caratteristica di avere il termine medio nella premessa maggiore come soggetto e nella premessa minore come predicato. Nel sillogismo di seconda figura il termine medio, invece, appare come predicato sia nella premessa maggiore sia nella premessa minore, mentre nel sillogismo di terza figura il termine medio appare come soggetto sia nella premessa maggiore che nella premessa minore. I logici medievali parleranno, introdurranno anche una quarta figura del sillogismo, ma Aristotele non ne parla. Poi, ma questo è un argomento troppo tecnico che non ci interessa, Aristotele elencherà altri tipi di sillogismo che si distingueranno a seconda dell'uso che si faccia delle vari tipi di proposizione, cioè a seconda che io usi proposizioni universali o proposizioni particolari, oppure a seconda che usi proposizioni affermative o proposizioni negative. Quindi, all'interno di ogni singola figura ci sono queste altre combinazioni che, appunto, Aristotele chiama modi del sillogismo e che dipendono, appunto, dall'uso dei diversi tipi di proposizione rispetto alla quantità, quindi universale, particolare, non vengono prese in esame le proposizioni singolari, o della qualità, cioè si va a vedere se le proposizioni sono affermative o sono negative. Negli analitici primi non si pone il problema della verità del sillogismo. Questo problema, Aristotele poi lo tratterà negli analitici secondi. Negli analitici primi, Aristotele ha inteso fornire la descrizione, potremmo dire, formale, del sillogismo perfetto. Quindi il sillogismo deve avere una forma perfetta affinché sia conclusivo e la forma del sillogismo, la correttezza formale, potremmo dire, del sillogismo è indipendente dal suo contenuto di verità. Cioè, come se Aristotele dicesse, prima di considerare la corrispondenza o meno del sillogismo, del ragionamento che ho fatto alla realtà, quindi prima di stabilire se un sillogismo sia vero o falso, io devo stabilire se questo sillogismo è formalmente corretto. Cioè, devo stabilire se effettivamente il procedimento non contiene un errore, e cioè se dalle premesse deriva necessariamente la conclusione. Cioè, se la conclusione è il risultato, potremmo dire, l'effetto delle premesse. Quindi, la prima preoccupazione che il logico deve avere è quella di forgiare uno strumento che sia perfetto, cioè un tipo di ragionamento che sia formalmente corretto, che quindi sia valido. Quindi, negli analitici primi, Aristotele affronta e risolve, a suo modo, il problema della validità dei ragionamenti, cioè della correttezza formale dei ragionamenti. Il problema, se questi ragionamenti, oltre ad essere validi, siano anche veri, costituirà il momento successivo, questo problema verrà affrontato negli analitici secondi, dove si tratterà appunto del ragionamento scientifico dimostrativo. Di quel ragionamento, cioè, che concluda in maniera, potremmo dire, veritiera, cioè la cui conclusione sia una proposizione che corrisponda alla realtà, che corrisponda a qualche cosa di esistente. Lo scopo della scienza è proprio questo. Io devo, come scienziato, come filosofo, io devo elaborare dei ragionamenti veri, e un ragionamento vero, per Aristotele, è un ragionamento che corrisponda al suo oggetto, secondo appunto quella formula dei filosofi, dei logici medievali, della adeguatio intellectus et rei, cioè della corrispondenza tra il ragionamento, tra una determinata frase e la cosa che questa proposizione deve dire, deve enunciare con verità. Se vi è questa adeguatio, se vi è questa corrispondenza, ebbene il ragionamento è vero, altrimenti è falso, altrimenti il ragionamento non ha un oggetto. Naturalmente poi il problema sarà di stabilire se le premesse siano vere. Quindi il problema delle premesse è il problema fondamentale. che una volta che io ho forgiato questo strumento corretto dal punto di vista formale, cioè premessa maggiore, premessa minore e conclusione, una volta che io mi sono accertato dell'efficacia formale di questo strumento logico, io poi devo anche garantire che la conclusione corrisponda a verità. E non posso farlo se non sono in grado, in qualche modo, di assicurarmi della verità delle premesse. E le premesse a loro volta devono essere indimostrabili, non possono essere delle conclusioni di premesse ulteriori. Le premesse devono costituire dei principi primi, delle proposizioni, come dire, fondamentali, vere, vere, dalle quali, con quel procedimento formale, io concluderò con verità, io trarrò delle conclusioni altrettanto vere. Ma se le premesse non sono vere, o se io ho qualche incertezza, qualche motivo di dubitare della verità delle premesse, è evidente che la conclusione sarà sì formalmente corretta, ma non mi darà, non mi darà scienza, non mi darà la verità, non mi darà, appunto, non costituirà un ragionamento scientifico, un ragionamento dimostrativo. come accertarsi che le premesse siano siano vere? E qui qui sorgono i problemi, perché Aristotele sostiene che la nostra conoscenza, in certo senso, non può non può prescindere dalla sensazione, quindi non può prescindere dall'esperienza che noi abbiamo delle cose. E quindi se io dico ogni animale è capace di sensazione, evidentemente lo dico perché ho visto, ho sperimentato, ho potuto in qualche modo accertarmi, ho avuto esperienza di numerosi casi che mi hanno portato in qualche modo a come dire, a indurre, più che dedurre, a indurre che gli animali sono dotati di sensazione. Ma Aristotele stesso è consapevole che la induzione, cioè il fatto di ricavare una proposizione universale dall'osservazione di tanti casi particolari è necessariamente incompleta perché io non posso avere esperienza di tutti i casi particolari. Quando dico tutti i corvi sono neri, tutti i corvi sono neri corrisponde sia una frase universale, ma è evidente che io non ho visto tutti i corvi che esistono, che sono esistiti e che esisteranno. Quindi io fondo questa frase universale sulla esperienza di casi singoli che per quanto numerosi non non includeranno mai tutti gli individui di cui io sto parlando. È sempre possibile che da qualche parte o nel futuro possa nascere un corvo bianco. In effetti il caso è avvenuto non per i corvi ma per i cimi. Quando venne scoperto il cigno nero in Australia ebbene il fatto che ci fosse diciamo così fosse stato possibile avere esperienza di questo cigno nero metteva evidentemente in crisi l'affermazione la frase universale tutti i cini sono bianchi. E quindi il problema della verità delle premesse è il problema di non poter ricavare dal processo induttivo la frase universale cioè la frase universale che a sua volta costituisca la premessa vera affinché io possa dedurre da questa premessa o da queste premesse universali delle conclusioni che siano vere cioè che abbiano il carattere della scienza qui Aristotele risolve il problema dicendo che nella come dire nella comprensione delle premesse quindi dei principi primi di questi di queste proposizioni dalle quali io parto per costruire i miei ragionamenti non è necessaria una induzione completa ma a un certo punto interviene quella che Aristotele chiama l'intellezione cioè il nus questo atto di intellezione grazie al quale in certo senso io non ho bisogno di andare a vedere a sperimentare materialmente tutti i casi particolari affinché possa essere definitivamente certo della verità della proposizione universale cioè io non devo andare a vedere materialmente no tutti i corvi neri affinché possa dire con verità tutti i corvi sono neri ma dopo che ho visto diciamo qualche migliaio di corvi ecco che entra in gioco questa facoltà della intellezione questo nus che sostanzialmente mi dà la certezza assoluta che la proposizione tutti i corvi sono neri è una proposizione vera è una proposizione vera grazie